Ha visto annegare una fanciulla e non ha chiamato i soccorsi. E così il ragazzo di soli 21 anni d'età è stato condannato a 5 anni di reclusione in carcere. Si chiama Michael Bowditch e ha confessato di aver assistito in potente o meglio più che potente alla morte della giovane Becky Morgan, 17 anni d'età, soli, che era caduta in acqua a largo della costa del Kent. La ragazza è stata ritrovata a Riva lo scorso 1 maggio, solo dopo diverse indagini è avvenuta a gara dalla triste verità dei fatti. La ragazza infatti era caduta in mare davanti ai fiocchi di Michael, che avrebbe avuto il tempo e anche la possibilità quindi di aiutarla a salvare le penne, la pelle. Ma purtroppo il ragazzo ha preferito ignorare la cosa in modo palese, come poi lui stesso avrebbe confessato. Il ragazzo, nel momento dell'incidente, pensate che era sotto l'effetto di una sostanza stupefacente molto grave, molto aggressiva. Sto parlando della molti specie concreta dell'eroina, della cocaina, scusate, come hanno dimostrato le analisi effettuate proprio dopo la morte dell'adolescente. Il giovane non ricorda come la ragazza sarebbe finita in mare, adesso però si dovrà fare 5 anni in carcere, solo come un cane. Vi ringrazio per l'ascolto, a volte bisogna essere veramente tanto attenti a prendersi, per così dire, troppo sul serio e è importante secondo me rimanere sulla propria testa, sulle spalle. Grazie. Grazie.